musica 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 non mi posso spaventare con la intro di Duster, dai tanto sono anche affredato ai mortacci di questo tempo divento nato colpiscemi tutte le volte che puoi diventerò più forte di prima in un modo io mancherò il combattimento buono contro il cattivo sono scemo il problema sono un'arma che fa solo te è un casino come cazzo? perchè? perchè? perchè ora mi seguono? prima non mi seguivano a caso vabbè ah ok no li devo se... eh infatti guarda ho combattuto per così tanto ho combattuto per così tanto tempo no volevo leggere mi sono spaventato tantissimo cazzo non ho più nulla ah si accorso la vita ciao è divertente in un modo mi sono alessi a tutto a parte te ai miei amici al mio fratello e alla mia vita tutto è solo per te non mi aspettavo non mi aspettavo sta mossa questa forse è una delle più facili da evitare e sveglate tutto il tempo è ora è arrivato cioè ho superato il primo attacco il secondo attacco è facile il primo è un po' più difficile il secondo è facile il terzo non lo capisco e il quarto mi sembra facilino diciamo è combattuto per così tanto tempo chissà chi vincerà ora eh guarda sono curioso cosa no no non ci affaccio eh che cazzo vabbè se subisco danno ora non mi importa perché comunque io mi curo ora vai eh un attimo me lo ho perso un attimo chissà chi vincerà ora chissà chi potrebbe vincere ora eh me lo stavo chiedendo anch'io quindi giù poi quando inventa rosso devo seguire a sinistra per poi andare su senza subitano e poi si invertono e così fanno due volte ce l'ho uh senza danno qua bene sì allora vediamo se può andare bene la mia tattica infatti immaginavo infatti immaginavo uuuuh uuuuh due volte senza subitano uuuuh sai è divertente in un modo mi sono adesso praticamente a tutto ora mi per te mi amici mio fratello la mia vita tutto solo per te oh 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 si infatti dicevo che la faccia voglio vedere ora il prossimo sono curioso undyne non l'ho capita non bisogna la sua anima per fermarti ah undyne non serviva anche anche ah ok dove sta qua capito sta andando più veloce non so voi è da stronzi è da stronzi bastardo questo è da stronzi non si fa gli amici anche se ha un ucciso non si fa si si lo so lo so ho capito non posso fare non posso prendere proprio nulla cosa ho detto senza subitano ormai è chiaro che sono riusciti riesco a superare quelle mosse come ho fatto a subitano non riesco ad andare in diagonale però già qua è un cassino 21 minuti non posso qua ce l'ha in così poco tempo cioè non riesco a farsi a perché è un cassino lì doveva andare su partiamo alla parte più difficile lì qua subisco danno 0 11 no questa volta ma io non vorrei che non avesse esplorato male perché per me c'è un'arma che possa fare di più di danno più piuttosto che un inutile danno di te forse nelle vuote forse aspetta lì e niente l'ho perso mai proviamo a fare la battaglia finale in modalità di freaks giustamente ed è il momento della battaglia lì 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 ah mi chiedevo cosa ti volesse fa uccidere cosa ti tenesse sano è il potere vero? cosa? ragazzi io sto qua qua poi vediamo ora le getterò vedo se tipo ho perso qualcosa perché per forza ho perso qualcosa noi ci vediamo al prossimo episodio ciao scoppi amici